Dalla piccola reggia alla grande reggia. Oggi gli ospiti della struttura di Via Fratelli Cervi, una ventina di persone, sono riusciti a realizzare un loro piccolo sogno grazie agli amici della biblioteca e alla Proloco Altesano Venaria. Quest'idea nasce dal fatto che noi come amici della biblioteca tutti i lunedì mattina c'è parte del nostro gruppo che va a fare delle letture in casa protetta, esattamente alla piccola reggia. Allora vedendo gli ospiti che comunque non escono mai da lì abbiamo avuto un'idea di fargli fare un'uscita collettiva e portarli alla grande reggia. Noi amici della biblioteca tramite Proloco siamo riusciti in questo intendo e oggi gli regaliamo questo giorno di uscita collettiva. I degenti sono all'incirca 20 che soffriranno di questa giornata e posso dire con certezza che erano molto eccitati del fatto di questa uscita perché per loro non è normale fare delle uscite così durante le settimane, durante il periodo che stanno lì. Molto di loro è la prima volta che la vedono, qualcuno l'aveva già vista ma ci tenero particolarmente a rivederla per cui noi abbiamo corto l'occasione per regalare questa splendida giornata.